Teoricamente abbiamo finito Misaru, in pratica. Adesso andiamo a uccidere Sota. Vediamo che cambia. Poi andiamo anche sulla verità, sicuramente. Salva, mi saffermi noi. Ok. Misau, grazie per avermi trovato. Aspetta, non andai, Misau. Cosa è successo? Misau mi ha ingraziato, sono sicuro che andrà tutto bene ora, capisco. Sta scendo la luce, professore andiamo fuori. Cambia solamente il dialogo, quindi... Spera. Ok, sì, quindi... Ok... Voglio vedere... Che cosa cambia? E godermi la musica perché è semplicemente fantastica. Ok... Quello era Kubo? Sì, Kubo è la spada magica, era Kudo. Ok... Dio... 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 Guarda il certo è un altro normale Per l'annullamento della maledizione Professore, lei ha ucciso Misaro Capisco Quindi l'hai visto anche tu Uccideva anche me Professore, io non l'odio a nessuno Io giuro, io non Professore La scelta giusta era uccidere lui Me lo ricordavo Però volevo vedere che cosa accadeva se ci devo altro Però io lo sapevo Tu aveva giocato Let's move Cosa c'è? Non vai a casa? Professore, stai piangendo? Vuoi dimmi tutto se vuoi Ritigato con la mia amica Mi sono scusata Ma ha detto di non voler essere più una mia amica Capisco È angosciante Mauro è l'unica che ho Senza Mauro sono tutta sola Non stare giù Se ci sono io Sono certo che ti perdonerà Tirati su Piangere qui non cambierà niente Lo sbaglio Ciao Ora si sta facendo buio Va a casa Ti accompagno io Buio 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 Scenario San Allora per evitare di sentirlo Tipo tutto di nuovo Esco e rientro Ok Perfetto È verità quindi Grazie azioni per aver finito il gioco Hai gradito Misaru? Dunque Una vostra vita aspetta Uno che non hai ancora visto Nessuno sa ciò che può succedere Sei preparato? Sì Concedimi di guidarti Benvenuto ad una nuova storia Seleziona il tuo protagonista Io care con Lucky Femmina? Sì Eserisci il nome della ragazza Con la tastiera Ma caccia si chiamava? Strano Dov'è finita? Cosa c'è? Misaru Ha parlato Mi è caduta una lenta a contatto Deve essere qui da Da qualche parte Misaru? La cercherò insieme a te Grazie Misaru non ha mai ricevuto Tanta attenzione Ma era molto gentile Perché tutto questo È dovuto succedere a lei? Corrine Qualcuno mi sta chiamando Ho già sentito questa voce Dove sono? Ero in classe un attimo fa Stavo così per dormermi in classe Poi? Cosa è successo? Corrine? Onigra Wara Onigra Wara Sì tu Onigra Wara Signora Onigra Wara Altro mondo Città fantasmi Bravo Non è finito Questa parte mi sta chiamando No l'avevo fatta e come? Questo è Sino Onigra Wara Vedo un po' che non ci si fai Da Corrine Sino Onigra Wara Perché diavolo mi ha portato qui? Beh vedi Pensavo che volessi offrire la libertà Agli spiriti che dovevano essere sacrificati Yoshino e gli altri? Vuoi farlo? Ma perché? Quella ragazza Misaro Ha superato il limite Certo Ciò che hanno fatto è imperdonabile Ma la sua morte non è stata col valore Soffrono tanto quanto lei Credo sia troppo chiudere E lasciare continuare con la sofferenza Perciò ho deciso che liberare i suoi spiriti Se lo farai tornando tutti indietro Impossibile purtroppo Ma se la loro volontà di vivere Forta abbastanza potrebbero rinascere Provare a salvarli? Corrine La scelta è la scelta Perché a me? Perché non a Tom Amico di tutti? Sono più che certo che sei l'unica persona Che può salvarli Nessun altro ne sarebbe capace Signore Onigra Wara Grandi speranze per te Aspetta Salvare? Sì Tomba di Kudo Aspetta Colui che ha ucciso Misaro Oddio Io ho quello col cazzo Che lo salvo Però Salviamo Kudo Ok tocciamolo Che c'hai Misaro? Takeshi mi prende in giro Non di nuovo Qua Su su Mi occuperò io di Takeshi Non piangere Ok Andiamo a casa Ti farò giro lungo la strada Eri così gentile allora Ma si è cambiato Aspetta Perché mi lasci indietro? Andiamo a casa insieme Ehi per favore Sei così strano ultimamente Perché mi stai ignorando? Ma non capisci che mi stai infastidando? Scusa So di essere un fastidio Ma cerco di non esserlo Proverò a fare le cose da sola Permetto di non infastidirti Così Sì irritante Cosa Non parlarmi mai più Perché? Oh Misaro Fatti vedere un secondo No Perché no? Vuoi litigare? Sai cosa succedeva? Sì Hai abbandonato Mi fidavo di te Non ti perdonerò Inizio Inizio Edicina. Mi spiace tanto, Kudo ti prego torna con me, perdonami, è inutile affliggersi, se solo fossi stato più rapido, colpa mia, tutta colpa mia, no, non è colpa tua, si invece, mi sa, mi detesto, è la prova definitiva che è tutta colpa mia, Kudo. No, queste ragazze non sono Misaro, sono solo ilusione irate dall'oscurità del tuo cuore. Che stupidaggio, su cosa basi quello che hai detto? Perché Misaro è così gentile, non direbbe queste cose, non dovresti saperlo meglio di me. Misaro? Misaro? Kudo? Misaro? Misaro? Kudo? Chiamarti col tuo nome, non lo facevo da tanto tempo. Mi dispiace Kudo. No, sono io a dovermi scusare, è colpa mia, sei tu. Tutto ok? Non ti odio. Perché non ti ho abbandonata? Sì, e mi sentivo tanto sola. Ho sofferto come se stessi per morire. Ma sapevo come ti sentivi, Kudo. Ti mancava il coraggio, sapevo che pensavi sempre a me. E mi rendeva felice, nonostante tutto. Misaro? Grazie di avermi pensato. Ti voglio bene anch'io, Kudo. Misaro? Misaro? Sto per piangere, è incredibile. La misura passa davanti a Kudo, era quella vera? Chissà se anche quella misura fosse solo l'illusione di Kudo. Wow. Beh. Salviamoli tutti. Cioè, salviamo, immagino, di dove lo fare praticamente per forza. Quindi vediamo un po'. Allora, sì, c'è la dieta. Senti la presenza. Capiti. Misaro, non fare la rattiva. Forse se fai la bella ti faccio uscire. No, basta. Stammi lontano. Basta, aiuto. Paura. Sporco. Fa male. E' orribile. Cazzo. Non perdonevo mai. Perdonami, misaro. Perdonami. No. Ah, qua. Non puoi farla franca con quello che hai fatto a Misaro, Yushino. Per la punizione. Ma so che anche tu hai sofferto, quindi ti libererò. Misaro, non ti fermerai? Mi so come ti senti, ma anche Yushino si è pentita di ciò che ha fatto. Mi sa che non ha funzionato. Per solo trovassi qualcosa con cui fermare Misaro. E poi metto. Ah, va bene. Nah, proprio gioco. Ah, proprio gioco. Ah. un po' Sì. bella mazza è l'unica opzione. Misaro fermati. Misaro fermati. Yoshino, sembra che non possa parlare. Donami, donami. Yoshino, fa tutto bene ora. No, no, basta. Statemi lontano. Yoshino, spero che questo ti abbia insegnato a non maltrattare i deboli. Non lo farò, giuro che non lo farò più, perdonami. Sono sicuro che Misaro ti perdonerà. Torniamo indietro insieme. Perché? Perché mi stai ostacolando? Che devo tu volessi aiutarmi? Che devo volessi fare amicizia con me? Sì, ho sempre voluto essere tuo amico, Misaro, ma lasciarti fare questo non ti aiuterà per niente. Che sai? Misaro, non l'hai ancora superato. Se continui a fare questo non ne sarai mai in grado. Silenzio. Ascolta, Misaro. Fare questo purificherà davvero il tuo cuore. Iscila. Certo che no. Se fosse così, saresti già ascesa in cielo. Basta, basta, basta. Smettila, Misaro. Sei solo facendo la vindicativa e non voglio vederti così. Questo silenzio io non so leggerlo. Misaro. Piccola Yushinio. Io adoro questa parte qui. Tomba di salto a me, sì. Devono essere stati usciti i suoi ragazzi ad aver messo il messaggio di Misaro sulla rovina. Sono il peggio del peggio. Ma Misaro fa un po' schifo. Mi sento male per Toma che avrei dovuto leggere quel dubbibile poema. E poi Misaro che dovessi sentirti in colpa. Penso che quel poema sia carino. O tome, sei fin troppo gentile. Oh, ci ho sentito? Ah, hai dimenticato il mio fazzoletto. Misaro, hai dimenticato il tuo fazzoletto? Ti presto il mio? So, tome? Mi dammelo quando vuoi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Santa Rellina. Sei stata tu a mostrare il mio messaggio a tutti, non è vero? Che ragazza orribile. Deve aver imbrogliato Toma. Odore di mento florale. Blair. Hai trovato? Mazza. Io ho gli altezzi per la pulizia. Perché? Non posso andare la mani nuda per questo momento. Apri la bocca, Toma. Ah, buono. Hai i panzi migliori, o tome. O tome, o tome. Saresti un'ottima moglie. Mia moglie. Ovviamente. Toma. Non ti darò, Tomas, o tome. Toma, è tutto mio. Toma, Misaro. Cosa? Il mio Toma. Toma, andiamoci in ora. Toma? Misaro. Misaro è l'unica per me. Toma. Toma? Pensando, vero? Mi hai detto che per te Misaro è solo un gioco. Peccato, tome. Mentito. Io amo Misaro. Sono così felice, Toma. Non può essere vero. Toma. Non ci aprivi, eh? A Toma piaccio io. Sei tu che sei solo un gioco. Misaro, sei l'unica per me. Tu sei mio, Toma. Ti amo. No. Fermo. No. Lei ho detto manacce alla Toma. Sao, Toma? Sao, Toma, resta con me. No, appiglio occhi, Toma. Mi si appigli tu, Sao, Toma. Che cosa ci vedi in Toma? È tutto aspetto fisico. Ti sbagli. Toma è bello. È gentile. E mi protegge sempre. Ripensa a quando sei stata attaccata nel bagno. Toma ti ha abbandonata. Toma non mi abbandonerebbe. Toma. Lui. Stai lontano. Ma, Toma? Toma, aiuto. Ma, Toma, mi ha lasciata morire. Coraline, posso avere quella mazza? Non ho bisogno di te, Toma. Io ti odio. È tipo Anakin Skywalker in episodio 3. Toma, Toma. Adesso puoi anche... No, quello lì... Proprio col cazzo che è telulibero. Mi dico, guarda, prendi questo. È uno specchietto. Penso che potrebbe tornare utile. Chissà o che cosa. No, quello proprio col cazzo. Aspetta, però. Voglio vedere che cosa accade se... Lo libero dopo, quindi. Tomba di Toma. Tomba di Toma. Quindi Toma è qui. Quindi mi sarà posseduto Toma per tascinarla nell'altro mondo. Lo cazzo non si torna indietro. No. Questo è il fermo a capire di Ayaka. Siamo io da Ayaka. Yeah, ma questo non è l'importante. Neanche questo non è l'importante. Ok. Questa è la firma di Colin, di sicuro. E di Colin, che mi importa. Dice. Ed è con una lettera d'amore. Beh, vediamo quanto è su cosa questa letterina. Questa è una lettera maledetta. Se non le inviate 5 persone una settimana, sarà maledetto. La catena di... Di Whatsapp. Ok, controlliamo il cassetto di sotto. Che cosa abbiamo qui? Hm? Ah! Che cosa sono? Delle braccia? Che cosa? La schifonia delle signo sota? Ma perché? Sono vere? Ma non possono esserlo. Don tocca a lei! Yeah! Bene. Non sono ancora decomposte. Il tuo corpo è miracoloso per restare fresco per più di 3 mesi. Ho una ragione in più per amarti. Eeeh! Questo qui è pazzo! E tu? Hai visto il mio segreto? Non... Non, 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 non! Non puoi scappare. Ti ho beccata. Non vai da nessuna parte, ora. Guarda prima. Non dirla a nessuno, ok? Il segreto tra me è te. No, no, no. Capisco. Che sfortuna. Dove uscire più allora? Eeeh! Ayaka! È il signo sota! Aiuto! Ayaka! Calma, i tessi sono spariti. Ayaka! Voi sarò di essere Ayaka andata nel panico dopo che ora sono attaccata. No! Non farti ingannare! Stava tentando di uccidermi! Ayaka! Ti hanno attaccata! Ti ho detto di scappare e stare al sicuro! E qui possiamo... Sarò con lei, va bene. Aspetta un attimo. Eeeh... Ok, non andare, aiuto! Aiuto! E ora? Non è questo campo? No! Posso scappare così? E se ti potemi scappare? Aiuto! Stupida, ragazzina! E tu che mi credevi perfetto? Sì, il signo sota ha ucciso Ayaka. Scusami se non l'ho notato, Ayaka. Ma una cosa è strana. Perché il corpo di Misawa non si è decomposto? A parte il potere, assomma l'edizione. Anche se in pezzi, ha provato disperatamente a vivere. La soluzione di restare viva dovrebbe essere inimmaginabile. Non ti meriti di viva. Però voglio vedere cosa succede. Quali sono? Niente. Lo schermo acceso, ispezionarlo? Ah, lol! Posso salvare anche qui, allora. Eeeh... Qua. Computer, prima ero soddisfatto. Mi piaceva essere amato da tutti. Ma all'improvviso... Era tutto guppo. Non era me che tutti amavano, era la mia maschera. Qual è Ayaka? Ayaka! Non mi noto. Signo sota. Il signo sota è il migliore. È un po' misterioso, ma questo lo rende ancora migliore. Che fortuna, Ayaka, averlo come coordinatore di classe. Sono così gelosa. Signo sota. Sei sempre bellissimo. Ha proprio un bel faccino. Molto migliore di tutti quei ragazzi. E anche la sua personalità è fantastica. Infatti, gentile e affidabile. Ecco qual è il punto del professore. Non è solo l'aspetto fisico. Chissà se riesco a tenere il numero di cellulare del signo sota. Sembra che non riesco a vedere Farline. Ok. Dannazione, tutti pensano soltanto al mio aspetto fisico. Quelle stupide ragazzine. Questa, questa non è la mia faccia. Mi dirichi sota. Sota? Potrebbe essere il signor sota? Che ci fai tu qui, sota? Signor sota. Impuzzolendisci la classe. Vai a casa, schifoso. E' fatto accadere... Ho fatto accadere il suo fazzoletto. Dovevi taglielo? Cosa c'è? E' fatto accadere il tuo fazzoletto. No, che schifo. Sota l'ha toccato. Non toccare le mie cose con quelle tue schifose mani. Chiedo scusa, te lo ridò. Non lo vi voglio adesso. Fai schifo. Sota, brutto stronzo. Stai facendo piangere le ragazze. Sei il peggiore. Non osare più portare le tue sudici manacce a scuola. Nessuno mi accetta. Era questo il passato del professore. Sì, non è una buona scusa per fare ciò che ha fatto, eh. Sembra che tu possa entrarci. Ah. Nessuno mi accetta. Non puoi più scappare. Ah, lol. C'è il game move anche qui? Che cosa faccio? Ok. Un gatto? Gatto. Miau. E interrogiamo quel gatto. Perché? Perché tutti mi rifiutano? L'ogio. Non lo sopporto. Miau. Un gatto. E' ferito. Miau. Sembra così fragile. Devo portarti all'ospedale. Magari dal vetrinario, non dall'ospedale. Tieni duro. Ti aiuterò. Non spiacente. Non mai è sfacciato. No. L'otto vuoto. Mi dispiace. Fessore, ti avresti trovato più ma forse avrei potuto. Fessore. Allora. Forse è che questo è praticamente il palco di Doraemon. Ma. Ciò non giustifica ciò che ha fatto lui. Voglio dire. No. Nessuno mi accetta mai. Ecco cosa pensavo. Ma lei era di basta. Ma di davvero quella cosa? Perdente. Questa discarica è il posto preferito per Sota, eh. L'hai detto. Ehi, di qualcosa. Sei uno sfigato. Andiamocelo. Stai bene? Takano? Lei... Ero in classe col signor Sota. Ti spiace se... Mi siedo con te. Va bene se non mi vuoi, scusami. No, no. Ma che dici? Quindi posso? Certo. Cosa faccio? Cosa dico? Neanche Takano sta dicendo niente. Perché Takano mi ha parlato. Le mani di Takano sono così belle. Ehi, pensi sempre qui? Ah, sì, sì. Capisco. È così bello qui. È così calmo. È rilassante. Già, lo penso anch'io. Già. Scusami. Per cosa? Non ho potuto fare niente quando ti stavo dando fastidio. Non... Posso tornare domani? Eh. Dovemo abbandonare insieme dove in poi. Eh? Ma se mangi con me avrei preso in giro. Non importa. Ho deciso e non cambiare idea. Ho sempre finto di ignorarti per paura. Sono sempre evasa dalla realtà. Ma lo smetterò. D'ora in poi ti proteggerò sotto. Cosa? Ti sto infastidando? No, è che... Sei... No, ma... Ma... È solo che... Non puoi... Se vieni maltratata per colpa mia, io... Voglio dire... Mi sentire in colpa. E avere una ragazza che mi difende sarebbe ancora più in giro. Hai ragione. Mi dispiace. Ah, ma... Fesso molto il pensiero. Beh, scusa per averte ricordato. No, no, eh... Però... Non cambierai il fatto che voglio proteggerti, Sota. Vieni da me ogni volta che sei nei guai. Ti aiuterò con qualsiasi cosa. Takano? Grazie. Ehi. Voglio conoscerti meglio, Sota. Lei è stata la prima. La prima ad accettarmi. Ero così... Così felice. Le cose poi... Ma occhio... Sono andate malissimo, perché... Io odio così. Ti fa vedere anche il lato umano di chi umano non è. È interessante, ma... Che bastardata.